Prima di cominciare con il video ci tenevo a salutare i miei nuovi amichetti che si sono abbonati al canale Grazie mille amici Grazie mille mi raccomando premi anche tu il tasto abbonati scegli il livello di abbonamento che più fa per te Verrai salutato nel mio prossimo video avrai la mia richiesta ed avrai tantissimi vantaggi Io ti aspetto in famiglia Quest'oggi modino quest'oggi tipo questo video pazzesco ok perché perché ti farò vedere come ottenere in anteprima penso mondiale Perché non ce l'ha nessuno tranne tipo solo un americano e un australiano e la skin di Ariana Grande In più ti dirò tutte le novità del concerto mamma mia Prima però di mostrarti tutto questo io ti invito a fare due cose velocissime La prima è quella di iscriverti al canale esatto Premi subito il tasto rosso iscriviti ed attiva la campanella delle notifiche Ma questo lo devi fare adesso mi raccomando E la seconda cosa beh che anche questo effettivamente devi fare adesso che sbadato che sono Negozi oggetti Tasto supporto creatore In basso a destra ed inserisci l'unico solo ed inimitabile codice creatore Joe Trattino X97 Tutto maiuscolo proprio come puoi vedere Qui dietro di me ed ancora rullo di tamburi No intendo veramente rullo di tamburi nell'edit Scusami Eh signor Traster però rullo di tamburi Eh qui sotto di me Non ci stavo per niente quella ragarina come cosa Mi raccomando Joe Trattino Alto X97 Anzi sapete che vi dico è iniziato agosto Quindi io riaggiorno il codice Eccolo qui Joe Trattino Alto X97 Adesso sono pronto per shoppare tantissime skin Eccoci eccoci qua Chi è pronto per il nuovo concerto di Ariana Grande? Eh Ariana Grande Oh mamma mia sono troppo stonato Beh meno male che non c'è il concerto di Joe X97 Che poi veramente ci dovrebbe essere Ma io No 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 Signori guardate un po' che cavolo di anteprima ho visto Ma budini e budine Anzi budinesse e budinessi Penso si dica così Non è che questa è la skin del Cavaliere Nero E adesso io vorrei capire che il diamine ci fa un Black Knight Beh sicuramente hai l'armadietto rarissimo E questo l'abbiamo capito Però adesso cominciamo per gradi Il concerto di Ariana Grande Come si chiama il Rift Live Tour Eccoci qui Nuove skin Nuovi concerti Un cubo probabilmente che arriverà Si è parlato di un cubo Si è parlato di esibizioni Allora intanto ti dico assolutamente una cosa Per quanto riguarda l'uscita della nuova season 8 capitolo 2 E tu dirai Joe scusami ma che cavolo c'entra l'uscita della season 8 capitolo 2 E io ti rispondo budino Non c'entra proprio nulla Però ti volevo dire che è già uscito E già stato spoilerato il nuovo Pass Battaglia Con le skin super ufficiali Io ho già visto tutte le skin E se questo video arriverà a 300 mi piace Quindi 300 di voi tu che stai guardando Devi lasciare un bel mi piace E te lo porterò in anteprima No 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 io te lo dico Io te lo dico 3 secondi di tempo per spaccare il tasto dei like Meno 3 Meno 2 Meno 1 Tempo scaduto Lascia un bel mi piace E condividi il video con tutti i tuoi amici È super importante Ok bene ma adesso passiamo al concerto Ierana Grande Perché ci sono veramente Ecco ecco tantissime cose da dire Cominciamo subito Rift Tour Ok quindi qui possiamo leggere Da agosto 6 Fino al giorno 8 di agosto Il viaggio Verso una realtà Una nuova realtà Magica Stavo dicendo Mannagica Ma non c'entra nulla Vabbè comunque E dive into the rift tour Andiamo subito regà A vedere questo rift tour Precipitiamoci all'interno Abbiamo varie date Penso che questo Già Insomma lo sapete Ok abbiamo 6 agosto 7 agosto 8 agosto Per le varie Per i vari continenti Insomma Allora adesso cosa si può fare Voi potete direttamente Selezionare l'evento Da vedere con i vostri amici Proprio Questo e molti non lo sanno Vi arriverà la notifica Che vi auto Teletrasporterà Nell'evento E tu dici Ah si così a caso Vado nell'evento No brutto budino Se tu attivi la notifica Per un evento E la cosa bella è che La potete attivare Per tutti gli eventi Io ad esempio l'ho attivata Per il global E per quello in Europe Quindi in Europa Perché io mi trovo in Europa Si E quindi diciamo che Io sarò su Portrait E automaticamente Se sei collegato E hai attivato Insomma Che vuoi partecipare Messo la X O quello che cavolicchi è Automaticamente Ti vedrai Teletrasportato Dalla lobby E questa è una particolarità Che praticamente Nessuno E dico nessuno sa E verrai Di conseguenza Messo sopra Un autobus Che camminerà Vabbè tranquilli Non ci vuole Oh mamma mia Vabbè abbiamo Abbiamo anche una navicella Spaziale Eccoci qui Continuiamo Fortnite Refere To the current Rift To quest Ok vabbè Comunque vediamo The first wave Of Rift Tour Quindi la La sfida Insomma Del Rift Tour E quindi Diciamo che Verranno aggiunte Nel corso Di questi giorni Nuove quest Da completare Quindi i nuovi obiettivi Le nuove sfide Sostanzialmente Che saranno Collegate Proprio A Rift Tour Ecco Completandole Potremmo ottenere Quelle che sono Queste ricompense Quindi possiamo dire Delle skin Dei nuovi ologrammi E adesso Abbiamo anche La skin Di Ariana Grande Signori budini Ne abbiamo parlato Ma nessuno Ve l'ha mai fatta Vedere in anteprima E soprattutto Non vi hanno mica Detto il segreto Per come ottenerla Beh per quello Ci penso io Infatti C'è un piccolo codice Da inserire Fidati di me Che ne vale proprio la pena Beh adesso Tu sicuramente Ti stai chiedendo Sì ma Il Rift Tour Questo concerto Come si svolgerà Uffi Vuoi proprio sapere tutto Va bene E allora Lasciatelo dire Sarà come O meglio Più o meno Come il concerto Di Travis Scott Quindi noi O meglio I budini Che attiveranno La partecipazione Perché quella di Travis Scott Attenzione Era obbligatoria Questa è facoltativa Quindi tu puoi continuare Tranquillamente A giocare nella lobby Con i server Che non andranno Diaminetti bruxelosi E per chi si cresce Questo timer Tutti mi avete letto Questo è il timer Per l'evento finale Me l'avete scritto È live Io non ce la faccio più A dirvi certe cose Questo è il timer Per l'evento Di Ariana Grande Budini Questo è il timer Per l'evento Del Rift Tour Perché la Epic Vuole creare tantissimo hype Ed effettivamente Ci sta riuscendo Però Comunque Ritorniamo a noi Quindi Per chi insomma Volesse partecipare Verremo teletrasportati lì E assisteremo All'esibizione Dell'ologramma Di Ariana Grande Proprio come il concerto Di Travis Scott E automaticamente Amici Io Sono troppo emozionato Otterremo gratuitamente L'ombrello E il backpack È veramente una cosa assurda Poi ci sarà ovviamente Pure la skin Che verrà messa L'indomani O meglio Partire dalle 2 di notte Ore europee Nello shop In cui ci sarà Il bundle di Ariana Grande Avremo un bundle Ed una skin Quante informazioni Ti sto dicendo La skin Probabilmente Costerà 1800 V-Bucks Alcuni addirittura Dicono 2000 Però sinceramente 2000 Non è una skin Leggendaria Quindi Mi sembra parecchio strano Però comunque Almeno a 1800 V-Bucks Ci arriverà Bene Ma se seguite questo codice Io vi ripeto Non mi assumo nessuna responsabilità Sono glitch Che portano i budini americani Quindi io non c'entro niente Voi dovete shoppare i V-Bucks E con i V-Bucks Comprarvi la skin Però Per chi si volesse sentire Furbetto Insomma Dovete scrivere questo codice Venite con me Allora Budini Andiamo nel sussurro di portrait E scriviamo Ariana Grande Però dovete scriverlo esattamente Come lo scrivo io Quindi con la E con la G maiuscola Trattino basso Free Bundle Slash N Staccato Quindi il numero del bundle E per ognuno ovviamente è diverso 36 48 79 1 2 5 7 2 4 0 8 3 4 6 Fate invio Ovviamente adesso lo sapete Seleziona modalità di gioco Creativa Una volta entrati in creativa Quittate immediatamente Ritornate in lobby Seleziona modalità di gioco Nuovamente Ed andate direttamente In battaglia reale E in teoria Vi dovrebbe dare Il bundle Sempre secondo quello che dicono Gli americani Non ve la dovete prendere come tu Non te la devi prendere come Perché io non c'entro nulla Bene Lascia un mi piace Condividi il video con i tuoi amichetti E per oggi ti ho già detto abbastanza Ciao Ciao